Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere gli errori DirectX su FIFA 24 ovviamente non solo è uscito il gioco ma ha avuto anche alcuni problemi riguardo a DirectX come su FIFA 23 quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato vari link su come risolvere questo problema grazie al DirectX Runtime e il Microsoft Visual C++ che ti permetteranno di aggiornare tanti driver obsoleti quindi iniziamo prima a scaricare i DirectX End User Runtime quindi viene usato su tantissimi giochi come DirectX 9, DirectX 10, tutti i driver che usano questi giochi qua e funziona anche con l'audio quindi tu selezioni la tua lingua, metti italiano e metti scarica e cominciamo a scaricare questo DirectX Runtime Setup e assieme a lui iniziamo anche a installare il Microsoft Visual C++ tutti i Microsoft Visual C++ fino al 2022 ovviamente queste sono le versioni che hanno rilasciato non c'è quella del 23 e non c'è quella del 24 vabbè siamo nel 23 però è arrivato fino al 22 quindi dobbiamo aspettare il Microsoft Visual Studio 2023 quindi iniziamo ad installare per 64 per i sistemi operativi a 64 bit per 86 i sistemi operativi a 32 bit e a RAM 64 ovviamente vanno installati tutti e tre io scarico questo scarico pure questo e scarico pure quest'altro una volta scaricati tutti non ci resta che installare questi driver quindi ovviamente io adesso vado sul desktop questi sono i tre driver e li avvio tutti e tre e seguo come amministratore tutti e tre sì a me farà un ripristino dell'installazione perché in passato avevo già installato questi driver quindi faccio ripristino per vedere se c'è qualche nuovo aggiornamento da installare su Microsoft Visual C++ ok questo sta facendo un'elaborazione ora facciamo anche su questo questo è un'elaborazione e quest'altro che ha finito accetto i termini e le condizioni di licenza installa ovviamente l'errore che vi potrebbe uscire è tipo questo tipo avviate FIFA e vi esce questo DirectX funziona perché la scheda video non ha tutti i driver aggiornati quindi non ha driver ben aggiornati a tutti i driver obsoleti non funzionano non vanno quindi non va niente qui c'è installazione riuscita quindi va riavviato il pc faccio chiudi qua dice installazione non riuscita perché il pacchetto di installazione è non supportato dal tipo di processore quindi ho un processore che non riesce a supportare questo driver quindi faccio chiudi e questo qua mi ha dato l'installazione completata e faccio chiudi una volta fatto vado ad installare l'altro driver quindi se lo trovo eccolo qua DX Web Setup e faccio certo il contratto installa Bing Toolbar che sarebbe un motore di ricerca che va messo su Internet Explorer oppure Google Chrome io lo tolgo perché non mi serve e installiamo i DirectX poi mentre sta facendo l'installazione andiamo direttamente su gestione dispositivi per vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento sulla scheda video quindi schede video questa è la mia scheda video 1660 Super aggiorna driver cerca automaticamente driver cerca driver aggiornati in Windows Update e vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento in Windows Update ok qua mi chiede di fare qualche aggiornamento su Power Shield che non c'entra niente con FIFA però io faccio installa tutto qui abbiamo finito l'installazione di DirectX facciamo fine una volta fatto quello che vi consiglio di fare è fare una riparazione su FIFA 24 ovviamente se cliccate sui tre puntini del gioco vi darà sicuramente ripara quindi riparate il gioco se lo avete su Steam sulla rotella e riparate il gioco sulla verifica di integrità quindi per le impostazioni proprietà file installati verifica che i file di questo gioco siano installati correttamente verifica l'integrità dei file del gioco una volta fatto tutti questi aggiornamenti se no se lo avete su Electronic Arts quello che vi consiglio di fare è disinstallare direttamente Electronic Arts quindi risolvere i problemi su FIFA 24 eliminando varie cartelle come per esempio faccio tasto Windows più R vado nella cartella AppData faccio ok scendo fino a giù e qui c'è la cartella EA e cancello questa cartella poi c'è pure la cartella di Steam tutte cartelle cache che non ci servono e quindi vanno cancellate cancellate queste cartelle e disinstallate anche i launcher se non va FIFA una volta fatto tutto questo procedimento tutti questi aggiornamenti ok quindi alla fine del video o nella scheda vi lascio dei video su FIFA 23 perché ci sono altri metodi per risolvere questi problemi quindi funzionano anche sul vecchio FIFA 23 quindi andranno sicuramente anche su FIFA 24 e se questo video ti è stato utilissimo troverai tutto in descrizione tutto il materiale che ti serve Driver Microsoft Visual C++ DirectX Runtime e i vecchi video su FIFA 23 quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.